Pato? Lazzaro Bogliari, presidente di Umbria Fiere. Ecco, io partirei dallo slogan di quest'anno, dalla terra le chiavi della ripresa. Cosa significa? Significa che noi ogni anno lanciamo dei messaggi all'interno di Agriumbria, dei messaggi rivolti a questo settore, perché Agriumbria è un momento importante proprio per discutere quelle che sono le tematiche più importanti del settore agroalimentare. È uno dei messaggi su cui noi crediamo che all'interno di questa nostra manifestazione se ne possa parlare, si possa veramente dimostrare che qui ci sono delle risorse importanti nel settore dell'agricoltura. È un settore che lo sta dimostrando, devo dire, perché le presenze che noi abbiamo, il tutto esaurito come sempre, però quest'anno abbiamo per esempio molti e molti più espositori che sono rimasti fuori degli anni passati. Ciò significa che c'è molto e molto interesse. Abbiamo visto le altre fiere in giro per l'Italia e c'è stato un incremento di visitatori importante e speriamo anche che sia così anche qui da noi. Quando dice qui c'è qualcosa di interessante, intende in Umbria e cosa intende nello specifico? Ma è interessante nel settore dell'agricoltura nel suo complesso a livello nazionale, non solo in Umbria. L'Umbria è rappresentata con forza anche per gli espositori della parte zootecnica, le macchine eccetera, ma ormai sono espositori che vengono da tutte le parti d'Italia. Anche sui bovini quest'anno noi abbiamo la mostra nazionale della chianina, per cui ci sono bovini della Toscana, dell'Umbria in particolare. C'è la mostra interregionale della Frisona con bovini che vengono dal sud d'Italia, che vengono dall'Emilia-Romagna e tutta una serie di tipologie di animali. Ci sono oltre 600 razze rappresentate. Quindi chi verrà da Umbria Fiera in queste tre giorni si troverà di fronte a convegni ma anche ad esposizione? Più che altro questo, ci sono i convegni che sono la parte importante per noi, perché noi diciamo sempre alle associazioni prendete spunto da questa nostra manifestazione per trasmettere quelli che sono i messaggi positivi del vostro mondo e per parlare anche delle varie problematiche. Però è una fiera, è una fiera vera e propria, con l'esposizione di tutta la parte zootecnica, che è il cuore della manifestazione, e poi tutte le macchine, attrezzature, di tutto e di più, insomma. È la filiera dell'agricoltura completamente rappresentata. Forse è una delle fiere uniche in Italia. Carlo Catanossi, presidente del gruppo Grifo Agroalimentare. Lei si rinnova anche quest'anno la collaborazione con Agriumbria. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sempre quello di rafforzare una grande manifestazione che riguarda l'agricoltura. Noi siamo un'azienda tra le più importanti dell'agricoltura, dell'agroalimentare di questa regione e ci teniamo molto a questa sinergia. Credo che sia anche un modello per imprese e per aziende che lavorano in questo nostro territorio.